Ed ora vi facciamo l'ultimo pezzo. Riallacciandoci al discorso di Michele, era un discorso molto importante sull'ecologia, perché la musica popolare è la musica che viene dalla terra, viene dal mare, viene da tutte quelle forme di lavoro pesante che, per forza di cose, sono vicine all'ecologia. C'è un noto filosofo tedesco di cui non ricordo il nome, ma che mi è piaciuto molto la tesi, che tra le specie animali l'unica bestia che butta l'immondizia nel suo nido è la bestia umana. Per cui cerchiamo tutti, con poco, di preservare quello che abbiamo intorno, perché è la cosa più importante. Adesso, quello che noi possiamo fare con la musica, su questo pezzo, il pezzo in cui vi salutiamo, che si chiama Morto Zifrungillo, dove dovete stare attenti però un po' alla coreografia. Se mi seguite, lo facciamo insieme durante il pezzo. Vi ringrazio. Oh! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.